Sì, nel percorso del forum che si concluderà ad Arezzo il prossimo novembre 22-25 novembre, noi abbiamo scelto di partire da sud, prima Napoli ora Bari perché riteniamo che ogni sforzo che dobbiamo fare per rinnovare, rilanciare il sistema sanitario non possa che partire dal mezzogiorno dove le distanze con gli altri sistemi sanitari del centro e del nord a volte sono importanti e dove ci sono oggi risorse e opportunità che a cominciare da sud devono riuscire a ridurre queste distanze. E quindi sono molto contento di aver trovato qui ancora una volta grandi eccellenze, grandi competenze, grandi intelligenze e usciremo da qui condividendo anche delle idee e delle proposte che porteremo sui tavoli del nuovo governo e delle nuove commissioni parlamentarie. Ecco, visto appunto che siamo agli albori di un nuovo governo, una frase che ho sentito spesso in questi giorni è uscire dalla politica dei silos. Il suo forum sta veramente creando un nuovo sistema, una rete nuova per la sanità italiana e può essere anche un messaggio per chi la governerà? Ma certo, uscire da silos vuol dire avere una visione sistemica ora con la riforma dell'assistenza nel territorio e con i fondi del PNR per nuove strutture nel territorio a cui devono essere aggiunte poi nuove risorse per il personale per far funzionare queste nuove strutture, casse della comunità, ospedale di comunità questo deve significare però in qualche modo anche una nuova cultura e una nuova capacità di lavorare insieme e quindi il forum ha questa caratteristica di mettere insieme tutti gli attori infermieri, tecnici, medici, dirigenti, management del sistema sanitario imprese che offrono tecnologie e servizi al sistema sanitario perché questo grande bisogno che il sistema ha di essere rilanciato e riformato ha bisogno della responsabilità e del protagonismo di tutti e il forum ha questa caratteristica e anche da qui oggi che è l'ultimo giorno parto voglio dire con un bagaglio di contenuti di soluzioni e di proposte che credo sia un arricchimento non solo per noi per il percorso del forum ma per il sistema stesso